Quando le signore si incontrano si guardano le tolette e i cani, anche l'amico dell'uomo è soggetto alla moda. Ai barboni, cani chic e sinuaieri, sta per succedere il nuovo bassotto lungo e stretto, Spider. Chi ne possiede una cucciolata possiede una miniera d'oro, basta un'inserzione e l'affare è fatto. Arriva una cliente. L'ex padrone di casa è il gatto ai giorni contanti. I bassotti sono una razza terribile, entrano dappertutto e hanno una particolare tendenza alla dittatura. Lavorano di naso sino a spodestare i rivali. Vattene tu che mi ci metto io, è il motto dei bassotti. Arrampicatori sociali pieni di ambizione, in pubblico bisogna chiamarli commentatori.